Ciao a tutti pubblico di Youtube e benvenuti ad un nuovissimo video Oggi 22 di marzo faremo un video riguardo a Nino Manfredi perché proprio oggi, 22 marzo, sono passati 100 anni esatti dalla sua nascita Allora, Nino Manfredi è stato uno dei più grandi attori italiani insieme a Vittorio Gasman, Alberto Sordi, Marcello Mastroianni e così via Allora Tra i film più famosi di Nino Manfredi abbiamo Allora vi faccio vedere un'immagine Eccola qui un'immagine di Nino Manfredi Poi Nino Manfredi è stato pure doppiatore italiano E tra gli attori che doppiò furono Robert Mitchum Doppiò anche Marcello Mastroianni, Renato Salvatori, Franco Fabrizi E anche Mike Bongiorno Fu anche doppiato tre volte di cui In due film da Stefano Sibaldi, una da Giuseppe Rinaldi e una volta da Corrado Mantoni Comunque Allora, Nino Manfredi Cerchiamo i film suoi Dunque Tra i film più famosi possiamo accennare Che ha fatto la parte di Geppetto nell'avventura di Pinocchio di Luigi Comencini Che molti di voi ricordano come affetto Poi Brutti, Sporchi e Cattivi è uno dei suoi film più famosi C'eravamo tanto amati Poi Per grazia ricevuta Linda il Brigadiere, una Fission Che ogni tanto la vedo sul Palinsesto Rai Poi Ha pure condotto Canzonissima Poi ha pure partecipato in qualche film con Ottotò E poi Che altro c'è da dire su di lui? Ah Che comunque In ogni caso Vi voglio dire che Nino Manfredi È sepolto al cimitero monumentale del Verano a Roma E comunque in ogni caso Ci sono comunque stato Nel 2016 All'Azor Ampliamento Dove ho collocato Nino Manfredi E ho visto la sua tomba Comunque Se volete vedere il video della tomba di Nino Manfredi Basta che andiate su playlist Dove ci sta la playlist Cimitero Verano E lì la troverete Comunque Vi do anche l'ubicazione Vi do questo sepolto Nino Manfredi Per chi di voi vorrà andare a domaggiarlo Allora In pratica si trova nella zona Ampliamento Gruppo 1 monumentale Tomba a terra numero 54 Che altro c'è da dire? Beh comunque Nino Manfredi Come ho detto prima È stato uno dei più grandi attori Che sicuramente Pochi Attori Poca gente come lui Rinascerà al giorno d'oggi Oppure in futuro Che dire? E niente Ci vediamo Ah sì Nino Manfredi è stato pure cantante E tra le sue canzoni più famose Ci sta Quella della panzanella E tanto per cantare Comunque Ah vi voglio dire che Nino Manfredi Era di origini sociale Ed era nato a Castro dei Volsci In provincia di Frosinone Che a Castro dei Volsci Io ci sono stato E comunque un bel paesino E comunque Ho visto pure la targa commemorativa in su Riguardo a Nino Manfredi A quando sono stato a Castro dei Volsci Perché Vabbè Comunque che dire E niente Ci vediamo alla prossima